Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città. Vediamo subito che cosa ci riserva la serata. Cominciamo con l'opera lirica, un grande spettacolo al Teatro Reggio questa sera, una grande opera romantica in tre atti. Parliamo del Tannhauser di Richard Wagner, va in scena appunto questa sera a partire dalle ore 20 e 30. Continuiamo con la letteratura, Torino diverso è il titolo dell'incontro al Circo dei lettori. Questa sera alle ore 21 Torino fra le righele dai libri alla realtà si va dalla mala alle 70 della Torino di Giovanni Arpino passando per i volti contemporanei della diversità e della fragilità per nello spunto dall'ultima notte bianca di Alessandro Perissinotto e la città fragile, il libro di Beppe Rosso e Filippo Taricco appunto al Circo dei lettori alle 21. Continuiamo con il cinema, Mashan, film dello Sri Lanka di Uberto Pasolini viene proiettato questa sera al Cineteatro Barretti alle ore 21. E finiamo con il teatro, vi segnaliamo il birraio di Preston, spettacolo tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, la vicenda del prefetto Bortuzzi, fiorentino scarsamente empatico con la popolazione siciliana. al teatro Carignano questa sera alle 20.45. Per questo oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda, l'appuntamento è per domani come sempre alle ore 17 circa e vi auguro una buona serata.